Ciao a tutti, io sono Lennia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio aggiornare sulle mie attuali letture e poi alla fine una piccola news. Allora, iniziamo subito con il primo libro che è Fahrenheit 451. L'ho appena iniziato, ho letto le prime dieci pagine praticamente, e al momento mi piace, però avendo letto solo dieci pagine non posso dare un parere, diciamo, ancora completo, anche perché sto ancora capendo se mi piace oppure no, al momento pare di sì, però vedremo in futuro, quando lo finirò, come si avvolge la storia, la scrittura, eccetera, eccetera. Però ne sento parlare veramente benissimo e avevo andato già in casa perché mia estrella l'aveva comprato e quindi ho detto vabbè, ora ce l'ho e quindi ora ne parlano tutti bene. Quindi è il momento, è giunto di leggere questo libro, quindi vedremo, vi farò sapere in futuro cosa ne penso di questo libro perché ovviamente ho intenzione di fare anche una recensione su questo, che sia positiva o negativa. Vorrei farla, ci tengo a farla che sia comunque sul canale. Poi purtroppo ho ancora in lettura il terzo volume del Trono di Spade di Martin. In realtà ho continuato a leggere dall'ultima volta che ne ho parlato sul canale, però purtroppo una cosa o un'altra poi ho dovuto lasciare. In realtà lasciare no, però andando molto a riletto questa lettura, nonostante mi stia piacendo un sacco, poi capite che io ho questa edizione grandissima, come la maggior parte delle persone, dei lettori, comunque hanno questa edizione, quindi mi potete capire se non riesco a finirlo. Poi sapete, lo stile di scrittura di Martin è dura da sopportare, però comunque il mio amore per Game of Thrones non mi fa fermare qua, diciamo, mi fa superare tutti gli ostacoli, compresa la scrittura di Martin. E comunque una volta che finirò Game of Thrones, quando le recupererò oltre questo anche il quarto e il quinto, parlerò in generale di Game of Thrones anche con la serie TV, c'è varie differenze. Però al momento purtroppo no, perché devo ancora finire questo. Posso farcela. Poi un altro, purtroppo, è il secondo volume della Spada della Verità. Questo libro mi sta piacendo molto di più di Game of Thrones, però, piccola questione ovviamente, Game of Thrones è la mia serie TV preferita, serie di libri anche, però devo dire che la Spada della Verità, io ci sono più affezionata per tantissimi motivi. Questo è un pochino peggio di Game of Thrones, perché i Game of Thrones alla fine sono cinque libri di mattoni, questi sono undici mattoni di questo genere, e un'altra differenza è che Game of Thrones, i mattoni, sono, diciamo, più libri insieme, due, tre libri insieme, e questo invece è una sola quasi grande. Che fortuna, eh? Però devo dire che questo si legge molto più facilmente di Game of Thrones, e mi sta piacendo tantissimo, e sto notando tantissime differenze tra il libro e la serie TV, che purtroppo ha solamente due stagioni, quindi io dei primi due effettivamente qualcosa già sapevo, però dal terzo in poi non so più niente, quindi io non vedo l'ora di finire il secondo volume di cui conosco bene o male la trama, Caos, la seconda stagione della serie TV, appunto, e cominciare il terzo e proseguire questa avventura con Richard e Cullen, perché non vado l'ora di scoprire cosa succederà ai due dopo la fine del secondo. News del secolo, ho finalmente comprato Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, quarto e ultimo volume della serie dell'Amica Geniale. Non ancora l'ho letto, non avendo avuto tempo, proprio zero, però intanto ce l'ho, e appena mi regolizzo un attimo, inizierò assolutamente questo libro. Elena Ferrante ha uno stile molto leggero, non leggero, però non è tutta questa complicatezza, in realtà il suo stile è di scrittura, quindi si legge abbastanza fluidamente, e poi ha una storia davvero interessante, quindi c'è sempre, o quasi sempre, spesso, diciamo, dei colpi di scena, quindi alla fine ti costringe a stare sul libro, a leggere e a continuare, a sapere cosa succederà. Ovviamente per le recensioni che io avevo promesso per il mese di settembre, arriveranno un pochino in ritardo, perché non avevo previsto alcune cose, che mi hanno fatto tardare tanto la lettura di questo quarto volume, ma non vi preoccupate, perché arriveranno ad ottobre, con tantissime sorprese, perché il mese di ottobre credo che sia il mese più difficile, ma anche più produttivo per il canale, e io sono felicissima di vorrei intraprendere dei progetti che ho in mente, che ancora in realtà vi svelo. Il primo in realtà è questo, quindi portare una recensione a settimana, ogni settimana ovviamente è dedicato a un libro della Ferrante, in particolare dell'amica geniale, insomma. Poi ci saranno delle cose interessanti, una ve l'ho già accennata per quanto riguarda le serie tv, e un'altra sarà una sorpresa a tutti gli effetti, non vi voglio anticipare nulla. Comunque, niente, allora, questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri, se li avete letti, e quali dovrei finire per prima, e niente, fatemi sapere cosa state leggendo, quali libri state leggendo, e iscriviti al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!